E buona vita a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Alessandro Marzano ed oggi siamo qui finalmente per festeggiare lo speciale dei 76 iscritti al mio canale. Veramente una sorpresa davvero unica che voglio festeggiare con voi, aprendo il mio primo contest del canale, ovvero questo contest di cosa si tratta. Infatti un fortunato tra voi iscritti potrà vincere questo account qui con Gino Hernandez Dream Festival e Ishizaki Dream Festival. Adesso vi faccio vedere un po' il team. Ecco qui abbiamo Gino Hernandez Dream Festival che è attualmente uno dei quartieri più equilibrati del gioco, Ishizaki Dream Festival che è un difensore molto forte e abbiamo anche tanti altri giocatori veramente buoni, tra cui abbiamo anche Tsubasa, Misaki e Kulvo. Anche Robson è molto buono. Per partecipare al contest dovete fare solamente due cose. Dovete essere iscritti al mio canale e dovete commentare con l'hashtag Gino. Mi raccomando ragazzi partecipate in tanti e noi estrarremo il vincitore precisamente la settimana prossima in live. Quindi ragazzi non mancate perché sarà una live sia per chiacchierare un po' ma anche per fare qualche partita insieme a voi iscritti. Quindi mi raccomando siete numerosi. Ragazzi, oltre a ringraziarvi per questo grande traguardo raggiunto, volevo innanzitutto consigliare ai giocatori delle prime armi di Captain Tsubasa Dream Team di entrare in quella che è a mio parere la più grande community d'Italia. Il gruppo di Captain Tsubasa Dream Team Italia su Facebook di cui lascerò il link in descrizione. Dove c'è gente davvero brava con tanta voglia di aiutare chi ancora non ha capito le basi e le meccaniche di gioco. Quindi ragazzi vi consiglio di farci un salto e di iscrivervi se volete. Inoltre volevo lasciarvi anche in descrizione un altro link però stavolta riguardante un canale Telegram che fa uscire in previo anticipo tutti i leak di Captain Tsubasa. Ovvero le summon che usciranno oppure tutte le nuove funzionalità che aggiungeranno durante la manutenzione. Quindi ragazzi un modo molto facile per sapere in anticipo cosa uscirà nel gioco. Allora, oltre a questo, e niente, volevo ancora una volta ringraziarvi per il grande traguardo. E ci teniamo anche ad informarvi che l'account in questione ha solamente la prima parte della modalità storia fatta, ovvero il primo capitolo, quindi è un reroll questo account qui, e abbiamo qui 37 dreamball, non sono tante, e inoltre abbiamo, vi avviso che questo account non ha né cartellini gialli né altro. Quindi ragazzi un account pulito, un account sicuro da dove potete ricominciare da capo. Inoltre volevo avvisare che gli eventi in questo account non sono stati toccati, quindi ragazzi avete tutti gli eventi da rifare, avete quasi tutta la modalità storia da fare, quindi ragazzi avete l'occasione di partire con un portiere top, che è attualmente un requisito principale di chi comincia a giocare a questo gioco, perché infatti non potete andare avanti senza avere un buon portiere in porta. Quindi ragazzi mi raccomando vi ricordo per partecipare al contest, l'hashtag dovete commentare con hashtag Gino, nei commenti, e essere iscritti al mio canale. Quindi ragazzi vi volevo ringraziare ancora una volta per avermi dato questa fiducia e questo supporto, vi ringrazio davvero, e noi ci becchiamo in live la settimana prossima. Ciao a tutti ragazzi, siate numerosi a partecipare al contest eh! Ciao a tutti!